Ciao, sono Di Palma Maddalena, ho 21 anni, sono di Bosco Reale, lavoro in un'azienda di archiviazione ottica e ho saputo di questo concorso tramite un'amica, sempre su internet. E niente, sono qui per fare una nuova esperienza, il mio hobby, mi piace tanto lo sport, palestra, piscina, ciao, bravo.